PAPÀ! Ti amo. Abbi cura di te. Questa notte una nave ha raggiunto Narvik dopo aver avuto uno scontro a fuoco con navi sorvecesi. Seguitevi! O ci siamo! Aslak, in cantina! I tedeschi sono qui fuori. Che facciamo? I tedeschi vogliono quel minerale da usare per le loro corazze in acciaio. We have no one. Better place than you to gain the German's trust. Crystal, so forth! We need to know where the German artillery positions are hidden in town. Lei si intende di esplosivi? Certo, Maggiore. Piazzi la dinamite e la faccia detonare subito. Via dal ponte! Sta per estuare! Fatelo esplodere! Riparo! Combatti per ciò che hai di più caro e muori se necessario. E chi era qui a difendere tuo figlio mentre tu hai ripartito per la guerra? Dovevo lasciarlo morire! fatelo! Averro! Grazie a tutti